Nome? Silvio. Massimo. Professione? Presidente del Consiglio in attesa di reintegro. Idem da prima però. Vi accusano di essere i padri del disastro italiano, come ti dichiari? Prescrito. Se io sono il padre del disastro italiano dovreste vedere quello che ho fatto in Kosova, diciamo. Il miglior momento della tua carriera politica? Quel tentativo di fondare l'ulivo mondiale, diciamo, quello è stato un bel momento. Mi hanno detto, Massimo, che hai cominciato a fare l'olio? No, l'ulivo, Silvio. Faccio il vino, non faccio l'olio. Vino rosso? Rosè, diciamo. L'incontro con la grande politica? Quando parlai davanti a Togliatti aveva ancora il gran biolino. Quando parlai davanti a Alicio Gelli? Che coincidenza? Aveva anche lui il gran biolino. Un errore della sinistra? Fare le primarie in Puglia. Anche fare i primarie in Puglia. Un errore della destra? Non aver scelto me come segretario del centrodestra, diciamo. Ma sono ancora in tempo. Candidare la Moratti, che è dell'intera sindaco di Milano, che è del Milan. Il tuo più grande rammarico? Un'amarezza più che un rammarico è quella di aver dato tutte le idee al centrodestra, perché a ben vedere la precarietà nel lavoro l'abbiamo inventata noi con la riforma 3, o abbiamo pensato all'idea di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Abbiamo dato i soldi pubblici alle scuole cattoliche, la TAV. E la RAI, certamente. Bravo, grazie. Fare a pezzi la RAI è stata un'idea nostra. Le privatizzazioni, le cartolarizzazioni, il non molino, tutte idee nostre, diciamo che loro hanno capitalizzato senza neanche un minimo di riconoscenza, diciamo. Cosa pensi di Monti? Si sta prendendo tante di quelle mazzate per fare delle cose che poi, tutto sommato, servono solo a noi, che è veramente incomiabile. Ma la cosa che mi amareggia anche qui è che questo lavoro, diciamo, di tassare gli italiani, risanare i conti e consegnare il paese alla destra, è un lavoro che il centrosinistra ha sempre fatto perfettamente, perché chiamare uno straniero della Goldman Sachs, diciamo. Il tuo più grande errore? Non credo che si possa parlare di mio errore, diciamo. Si può dire in generale che si sono fatti forse degli errori, ma che non sono quelli che pensate voi. Comunque sì, ogni tanto nella vita fare un bilancio, diciamo. Massimo, quante volte ti ho detto fai un bilancio, fallo falso se ti crea problemi. Un aggettivo per Napolitano? Un compagno. Un compagno che sbaglia, diciamo, la presidenza della Repubblica era mia. Il Quirinale veramente rispettava me? No, c'ero prima io e tu francamente non sei adatto, diciamo. E ho fatto portare anche il lettone di Putin, il lascio, come si chiama? Colle o culo? Si chiama Quirinale, diciamo, non si chiama culo, non lo puoi fare il Presidente della Repubblica. Tu hai detto sì, puoi fare tante cose, ma il Presidente della Repubblica, francamente. Quando ci saranno le elezioni, quali insulti vi rivolgerete? A me piacerebbe, a proposito, che mi continuassi a chiamare comunista, se posso chiederti una cortesia, perché diciamo per ragioni interne, diciamo. Come no, con piacere, comunista! A lui piace. Grazie, io pensavo, se non ti dispiace, te lo dico prima, perché capisco che possa suonare male, di chiamarti culo flaccido. Guarda che io sono giovanissimo e ha detto Don Verze che io camperò fino a 120 anni. Don Verze è morto. Veramente? Così giovane? Il posto più strano dove hai fatto l'amore? In bicamerale. Ah, non nel senso io lui. Ah, non... Chi è stato il tuo migliore amico in questi anni? No, no, amici, non mi vergogno a dirlo, diciamo. Se fossi amico dei miei amici sarei messo abbastanza male, diciamo. Sicuramente lui, il mio più grande amico. Non amo le smancerie, diciamo. Il tuo hobby preferito? Sempre quello. Mi diletto a segare le gambe a possibili leader del centrosinistra, diciamo, ma così è un passatempo. Mi annoio. Previsioni per il 2013? Speriamo che la crisi sia tale da poter fare finalmente la grande coalizione che abbiamo sempre sognato e toglierci questa condanna di dover fare un governo di centrosinistra che francamente è una croce che mi auguro di non dover più portare. Finalmente io e Massimo, con la grande coalizione, potremmo amarsi alla luce del sole. Il tuo sito porno preferito? Udem. Io sono un uomo che si è fatto il porno da solo. Fammi un urlo! Francamente, ah. No, mi spiace, non è nel mio stile. Oh, arriva la finanza! Imita l'altro. Diciamo. Io sono il presidente del consiglio. Diciamo. Grazie.